E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, questo sarà l'ultimo video del 2022 che vedrete negli ultimi giorni di dicembre, adesso non so bene quando ma comunque detto questo in questo video faremo un bilancio farò un bilancio della situazione sia personale che in generale del canale del 2022 e una parte invece in cui ci saranno i propositi 2023 se verrà troppo lungo lo dividerò in spezzoni ma ne dubito detto questo prima di cominciare con i veri e propri video vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like e niente, iniziamo col video partiamo quindi dal bilancio del 2022 partendo appunto dall'aspetto personale in cui quest'anno è stato un anno abbastanza importante secondo me premetto che parlo dal punto di vista personale quindi escludiamo situazione ucraina cose così perché sono cose spiacevoli però non interessano ai fini del video quindi le lascio indietro ma dal punto di vista personale invece quest'anno per me è stato un anno abbastanza di grandi novità perché ho fatto la maturità, sono uscito bene ho avuto l'opportunità appunto di fare lo stage in Irlanda poi a marzo avevo anche preso la patente per la macchina appunto finalmente quindi ho due patenti sia A che B quindi è stato un grande anno per il 2023 anche su questo aspetto si prevede un buon anno secondo me in vista appunto di quello che mi aspetta con quello che ho deciso di fare nella vita ma magari ne parlerò in un altro video passando invece all'aspetto youtube e twitch di content creation penso che quest'anno sia stato un anno di crescita ma anche di transizione perché ho capito qual è il focus su cui mi devo dedicare oddio ho iniziato a capirlo non completamente ancora può sempre variare però appunto ho capito quali sono i contenuti che la gente preferisce che preferisce appunto voi sul mio canale e che quindi penso di continuare a portare e qual invece nuovamente introdurre detto questo appunto nell'ultimo periodo ho provato più vlog short che comunque sono piaciuti più o meno tutti e niente detto questo appunto mi riaggancio al 2023 che sarà un anno secondo me da come l'ho pensato sarà un anno un po' di svolta perché mi metterò sicuramente a fare i video continuerò a fare i video non so se aumenterò addirittura la frequenza però poi magari nel 2023 farò un video, un post, un qualcosa in cui vi dirò alcuni cambiamenti che ci saranno e quindi appunto però quello che vi posso dire è che prometto noi contenuti nuove serie e cercherò di spostarmi verso l'aspetto di intrattenimento non videoludico volevo mantenere minecraft la serie survival perché sono video semplici da fare su twitch sicuramente porterò giochi come minecraft e anche altri però volevo concentrarmi anche su un altro aspetto che mi piace molto ovvero quello del cinema, delle serie tv, delle recensioni che avete già visto con la serie che sto portando che ho creato apposta per questo format che si chiama appunto Cineblocks che recensisce un po' di cose negli ultimi video ho parlato di un po' di cose ho parlato di Marvel, DC e cose varie e nel 2023 penso di ampliare la cosa anche a prodotti orientali e magari con una serie interamente dedicata a quello ma ripeto non voglio fare spoiler eccessivi quindi quello che vi posso dire è che sicuramente nel primo parte del 2023 vedrete anche la serie roleplay di minecraft però sarà l'ultima e niente detto questo è un video che non è durato neanche troppo quindi niente ci vediamo direttamente nel 2023 buon anno a tutti iscrivetevi al canale lasciate like per supportare ciao